Iniziamo la settimana con i mercati delle criptovalute che stanno riprendendo un po' di forza. Nella scorsa settimana c'è stato un rischio abbastanza alto che però Bitcoin come sempre ha scombussolato le carte proprio nelle ultime due ore ieri notte. Quindi prima della chiusura della candela settimanale lo vediamo oggi ragazzi ieri avevo fatto uno shorts sul canale YouTube dove vi spiegavo questa figura di inversione possibile topping più che di inversione che poi va confermata nelle settimane successive che era pericolosa perché vi faccio vedere oggi poi che è successo anche negli altri eventi storici quando si verificano questo tipo di candela. Ovviamente per fortuna durante le ultime due ore della sessione di domenica è andata a recuperare un pochettino quelle che sono questi quelli che erano le chiusure portandosi addirittura sopra i 65 mila. Ebbene Bitcoin alla fine è andato a chiudere sui massimi storici in close settimanale quindi per la prima volta chiuso sopra 65 mila dollari una settimana ragazzi e questo è veramente un grande risultato. Però 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 andiamo oggi a fare una cosa andiamo a creare questa connessione fra tutte queste che sono queste informazioni che Bitcoin ci sta dando quindi da una parte la struttura di analisi tecnica questi segnali di topping andiamo a vedere però anche dove siamo da un punto di vista ciclico perché insieme si collegano queste cose e poi andiamo a guardare anche la regina delle crypto che cosa ci sta indicando. Secondo me stiamo a un punto di svolta e nei prossimi giorni Bitcoin nei prossimi 10 giorni circa massimo ragazzi dobbiamo fare il botto. Se non lo fa rivedremo tutte quelle che sono le analisi però siamo agli sgoccioli lo vediamo su questo video secondo me. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi tra le altre cose vi ricordo che il 19 e 20 di novembre sarà la blockchain week di Roma saremo in tantissimi tra le altre cose abbiamo preso una villa insieme ad altri youtuber quindi faremo un macello penso. Vabbè a parte questo insomma sono molto contento di essere lì il 20 alle ore 12 e 30 avrò anche uno speech in un tavolo insieme ad altri youtuber tra i quali tra i quali crypto gateway quindi Luca e cioè a me e a Tomasicchio insomma ci sono altre persone con i quali parleremo di DeFi. Ragazzi vi aspetto la blockchain week di Roma ma i biglietti sono sold out quindi chi c'è c'è come sempre e ormai le questioni sono andate. Va bene allora detto questo ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto andiamo a vedere quelle che è la struttura grafica e andiamo a capire se effettivamente ci aspettano 10 giorni di boom boom se Prime B ha ragione. Anche io la vedo un po' così ma ci sono due ostacoli che vediamo oggi cioè arriviamo a questi 90 e passa K addirittura entro il mese di novembre alcune mie dati alcune mie statistiche alcuni miei target portano questi livelli ed è quella la strada che io stesso sto seguendo vi faccio vedere qualche operazione ma ragazzi bisogna superare prima dei livelli perché la struttura tecnica non è proprio così semplice va bene iniziamo subito da Bitcoin e vi faccio vedere quello che è l'analisi ciclica del mercato e i livelli di resistenza tecnica che dobbiamo aggredire ragazzi. Allora secondo me il livello più importante è questo 66 e 2 guardate l'ultima chiusura di questa struttura ciclica il precedente ciclo mensile ha fatto proprio un massimo in close a 66 mila dollari. Poi questo ciclo mensile li ha superati in close ma è stato rigettato questo break quindi questo è un fake break perché il mercato non è riuscito a tenerlo per più di due giorni quindi niente di rilevante tra l'altro qui ha fatto un'altra candela di topping poi il ribasso è stato anche pronunciato quindi non è sostanzialmente andato a fare un pullback è proprio ritornato indietro su questa linea di massimo quindi decretando che questo massimo in realtà è poco influente non ha avuto nessun impatto e che questa è la linea di demarcazione delle fasi di basso infatti questo livello di supporto 64 mila è stato mantenuto per fortuna questa settimana quindi siamo rimasti sopra però il mercato adesso deve andare a sfondare questi due livelli 66 e 2 prima è 67 8 ma anche 68 mila dollari insomma intorno a quella cifra dopo e il tempo assolutamente stringe ragazzi perché da un punto di vista ciclico siamo già nella seconda fase del ciclo mensile di novembre questa seconda fase deve essere quella che porta ai massimi la struttura che ha creato qui con questa campana centrale molto pronunciata non è delle migliori perché questa forma fatta in questo modo potrebbe anche spingere il mercato a fare una cosa del genere ora cosa significherebbe una cosa del genere che demandiamo l'eventuale app agli ultimi proprio giorni di novembre certo puoi andare a pensare che in solo una settimana raggiungiamo i 90 mila dollari mi sembra un po' eccessivo tutto può succedere bitcoin ci ha abituato assolutamente anche a queste cose basta una news magari molto importante e si vola questo è vero ragazzi però in questo momento il mercato deve decidere o andiamo velocemente a breccare 66 e 2 e poi 68 nell'arco di 1-2 giorni non di più ragazzi oppure secondo me la questione diventa complicata vi faccio complicata intendo nel superare questi livelli entro il mese e il ciclo mensile di novembre poi si demanda tutto secondo me al successivo ciclo mensile che dovrebbe iniziare dal 20-25 di novembre in poi ok vi faccio vedere la struttura dei tempi ed è questa qui allora vi ho messo due linee perché è corretto considerarle allora la prima quella che vedete qui in questo in questo punto è essenzialmente la chiusura di due cicli mensili insieme il presente è stato molto lungo 37 di solito non fa così cicli così lunghi bitcoin però è giusto perché era iper rialzista quindi i cicli molto rialzisti sono a lunga nei tempi ragazzi allora questo è un ciclo che sembra più in barra di congestione quindi un po' di accettazione del mega rialzo di ottobre però ha queste due zone quindi una zona diciamo che sta in mezzo a queste non di prezzo questa è una zona temporale ragazzi lo ribadisco sempre perché è meglio ricordarlo ogni tanto vedo che qualcuno di voi non comprende la differenza fra analisi e previsioni continuate a ragionare in termini di magie e cose del genere mi raccomando ragazzi altrimenti riprendo la mia bacchetta di harry potter vi faccio i video per rispiegarvi che gli analisti non prevedono il futuro si preparano a diverse ipotesi ok da un punto di vista temporale questa è la zona 20 novembre 27 novembre qui si andrà probabilmente a chiudere il ciclo mensile ora per questo vi sto dicendo che abbiamo pochi giorni perché la distanza fra la giornata di oggi che è 15 e il 20 sono solo 5 giorni quindi nel momento in cui bitcoin inizia a tentennare non supera i 66 e poi i 68 qui probabilmente ragazzi farà una chiusura in questa zona e dopo eventualmente si potrà andare a cercare questo boom eventuale io sono dell'idea che per una linearità anche di trend bitcoin dovrebbe fare un nuovo massimo proprio nei prossimi giorni andare poi a chiuderci magari in pullback intorno ai 68 questo ciclo mensile e poi sparare a bomba ulteriormente verso i nuovi massimi attesi per il mese di novembre una delle mie stesse analisi che seguiamo in academy cioè un'analisi sulla strategia mensile che ormai stiamo facendo questa cosa da sei mesi ottobre non siamo usciti a sedere sul cavallo qui ci siamo proprio alla grande perché siamo entrati intorno ai 59 e 60 quindi proprio sul minimo del mese e la stiamo gestendo vi dico francamente anche a leva molto importante per me alcuni altri ma non so cosa proprio perché c'è questo tipo di idea ovviamente stop loss da già inseriti insomma chiaramente seguiremo il trend certamente non andiamo a stare in leva ragazzi per tanto tanto tempo così diciamo senza avere un'idea generale della questione allora questa cosa qui che vi ho mostrato è un'idea che secondo me è la migliore da un punto di vista rialzista come sempre facciamo anche un'idea che invece potrebbe essere più negativa cioè quella che il mercato da qui non riesce praticamente a superare questa zona se ne va e si chiude qua dentro dopodiché se ne va in close del mese e poi parte un nuovo ciclo mensile ovviamente nella prima ipotesi il raggiungimento eventuale di target importanti come da analisi anche di plug in potrebbe essere accettabile nella seconda i 90k in 5 giorni di novembre insomma un po' un azzardo e quindi secondo me non andremo poi a vedere quei massimi storici c'è anche da dire che in base ai miei target price ve l'ho indicati nel video ragazzi che abbiamo fatto sul target di bitcoin andatelo a vedere è un video stra importante perché ci accompagnerà nei prossimi mesi quindi tutti dovete vedere quel video allora è vero anche che 90 e passa mila sono quasi il punto di arrivo e secondo me l'idea che bitcoin li faccia a dicembre questa volta non è non è così semplice però insomma noi ci proviamo siamo dentro i dati e seguiamo ovviamente il trend andiamo a vedere invece quindi quelli che sono gli atteggiamenti di ethereum e poi vi faccio vedere il pattern che si stava creando ieri ma che non si è del tutto annullato nella giornata di ieri notte quindi nelle ultime ore e quindi resta un po' questa peculiarità anzi facciamo una cosa ve lo faccio vedere adesso perché è più semplice così non riprendiamo l'argomento dieci volte allora ragazzi qual è la questione legata al pattern? un pattern di topping cioè lo stesso che si era verificato qui in questa candela quindi una shadow molto pronunciata e un corpo molto piccolo questo tipo di pattern indica proprio che i long quindi i tori hanno provato a salire ma poi sono stati fortemente respinti e quindi il mercato è diventato bearish questa cosa qui è molto pericolosa ma ovviamente va confermata nella settimana successiva perché? perché qui potrebbe essere sia una candela di reverse proprio completa sia una candela di riposo nel mercato per esempio vedete che nella settimana successiva il mercato non è riuscito a scendere e chiudere ovviamente la settimana sotto questo livello quindi non ha indicato un'inversione di trend quindi la prima candela ha indicato che il mercato era arrivato a un massimo d'altronde poi era il massimo precedente quindi si poteva aspettare che questa fosse abbastanza normale la seconda candela ha indicato scendiamo ma no perché vedete ha fatto l'atteggiamento contrario in pratica in una sola settimana quindi in pratica qui non è successo niente da una parte si sono fermati i tori da una parte gli orsi dopodiché è salita quindi questa candela ha annullato il segnale precedente ora la stava facendo proprio questa notte perché era questa la candela settimanale stavamo chiudendo intorno ai 64 indicando proprio la stessa identica formazione ora questa candela ha un corpo molto più grande quindi sembra una classica candela di continuazione del trend di ente di anomalo ma non è così tanto grande il corpo quindi vi faccio vedere in ogni caso quelle che erano le precedenti fasi dove si sono andate a configurare per esempio questo tipo di candela e che cosa poi è andato a succedere allora poi ci sono anche una serie di considerazioni da andare a fare facevo proprio ieri con il mio cugino andavamo insieme una domenica e gli spiegavo guarda questa candela se sale qui si annulla non è una candela abbastanza difficile però è molto complessa in questo caso da annullare così poi l'ha fatta ieri sera proprio però bisogna fare tante considerazioni su queste cose quando si analizzano ovviamente è impossibile farle in un video di youtube perché staremmo qui a parlare di filosofia 15 giorni quindi non è cosa però vi faccio vedere quelli che sono stati i precedenti atteggiamenti del mercato per esempio questa è un'altra candela che ha indicato la stessa cosa questa candela non l'ha confermata vedete la successiva ma la terza più o meno sì da qui in poi il mercato ha cincischiato ma poi ha iniziato in sostanza un super trend negativo perché questi sono stati i massimi di giugno 2019 guardate che cosa combina poi una cosa del genere anche qui vediamo lo stesso tipo di atteggiamento anche questa è una candela che è identica e dà lo stesso tipo di atteggiamento questa è stata ampiamente confermata con il cross della settimana successiva sotto il livello guardate che è combinato stessa cosa qui guardate la tipologia di candela che si stava verificando proprio nella settimana di ieri ma che bitcoin vi ripeto ha poi nelle ultime due ore annullato il pattern cercando di farlo un pochettino meno imponente quindi guardate come è cambiato in maniera radicale l'atteggiamento il green era più o meno così sempre verde ma era più o meno così e adesso invece è cambiato stessa cosa se andiamo indietro vi faccio vedere con una carrellata veloce si possono identificare una serie di pattern dove vedete anche qui questo è un pack ve l'ho messo apposta per farvi vedere guardate come questo pattern è stato poi confermato dalla candela successiva ma poi il mercato è andato in fake perché i pattern sono probabilità ragazzi non certezza quindi in alcuni casi ovviamente poi è un fake come il fake break delle barre anche qui invece vedete confermato trend ribassista confermato trend ribassista confermato trend ribassista ce ne sono tante di questi casi studio che si possono andare a vedere ecco perché soprattutto su un grafico di natura settimanale non daily ovviamente cambia il mondo nel caso daily questo tipo di pattern sono fortemente ribassisti dovete tenerli a mente perché è assolutamente importante ok andiamo a chiudere adesso il cerchio guardando eth e poi facciamo le nostre conclusioni allora eth nuovo ciclo mensile anche qui c'è un po' di forza ma soprattutto c'è un po' ragazzi di atteggiamento lineare da parte di eth vi rimetto la linea guardate un po' è veramente un super trend questo ha probabilmente dovuto sia alla questione legata alla defy che in questo momento sta veramente dando grandi soddisfazioni sia legato al fatto che eth ha cambiato struttura non è più quello di una volta in termini proprio di fondamentali insomma di progetto per il fatto che è diventato un asset non più imprazionato come prima e quindi sta cambiando la struttura il prezzo probabilmente continuerà ad essere lineare e soprattutto vantaggioso fino a quando il mercato continuerà ad essere rialzista nel complesso poi quando ci sarà e se ci sarà mai una mercato orso ovviamente io lo digniego totale di questa cosa allora poi probabilmente scenderà anche eth con questo atteggiamento allora qual è la questione legata al mensile il mensile di eth lo diamo intorno più o meno alla chiusura del mese di novembre quindi stessa identica situazione tra il 19 e tra scusate il 20 e il in questo caso ho messo il 30 quindi fino a mese allungato diciamo per avere una view differente di quella di bitcoin giusto tanto per ragazzi ma comunque anche qui siamo nella struttura della temporale che va intorno a questi 5-6 giorni dopo il 20 di novembre ora ancora una volta guardate un po' la struttura eth è più facile da superare i massimi storici quindi 4 secondo me ragazzi il raggiungimento dei 5k è abbastanza dietro la porta quindi si può fare si può fare ok alla Gandalf assolutamente fattibile ma poi io penso che eth non si voglia neanche fermare qui vi dico francamente secondo me potrebbe andare tranquillamente a sfondare questa zona e poi dopo la cosa del ciclo pensile tentare anche una cosa del genere soprattutto perché se bitcoin andrà a target importanti in questo mese o nel mese di dicembre non credo proprio che TH stia al palo ma seguirà alla grande ragazzi quindi assolutamente anche questa che è una coin che compone il mio portafoglio ovviamente di meno di bitcoin ma comunque è ormai una percentuale importante del mio portafoglio rispetto anche alle altre crypto voi sapete che io divido per lo più in ETH e BTC e poi ho delle crypto sparse con i miei trading system che vanno a prendere i pump insomma e poi scappo via quando il gioco si fa duro allora questa è la struttura del ciclo di ETH secondo me si sale e dalla conferma del superamento dei 4.8 per ETH che secondo me veramente è fattibile già domani dopo domani avremo anche l'idea generale se questa candela di bitcoin riuscirà a portarsi al di sopra dei 68.000 dollari allora vi ho detto tutto quello che penso e quello che sto facendo ragazzi io stesso sono ancora lungo con le posizioni di breve faccio dei change delle cose particolari è inutile che ve le spiego qui a fine giornata però mi raccomando ragazzi occhi aperti per queste due più che vi ho mostrato voi quelle preferite secondo voi qual è la situazione ci sono delle news che stanno già circolando siamo arrivati alla fase distributiva e potrebbe essere una fase distributiva se non si sale a target come quelli indicati a plan B e soprattutto se questo mese di novembre non spinge da un punto di vista di botto veramente andando su prezzi del tutto differenti da quelli attuali ma se stiamo intorno ai 74, 75, 68, 69 è possibile che la fase distributiva sia già iniziata ma è l'unico modo quindi se vediamo prezzi superiori di gran lunga ai 70.000 dollari non è possibile che ci sia una fase distributiva da questi prezzi sarebbero troppo bassi quindi in realtà non è così quindi mi raccomando quando leggete questi articoli siate sempre critici e soprattutto sviluppate una vostra idea che è fondamentale scrivetemi nei commenti quello che pensate confrontiamoci bla 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 perché è la super forza della nostra community ciao a tutti buon inizio settimana grazie a tutti